Avanzo 5 mesi di stipendi, la ditta è chiusa, il consorzio si lava le mani, il comune è attrettando. Noi abbiamo famiglia a casa, avanziamo 5 mesi di stipendi e non possono tralasciare questa situazione perché noi non ce la facciamo più, qualcuno prenda provvedimenti. Stiamo aspettando 5 mesi che non abbiamo avanzato i soldi nostri, abbiamo lavorato qua alla piscina in spalle. Antonio Melchiorre e Aziza e la FID sono due volti della sofferenza che da 5 mesi sopportano con le loro famiglie. Una storia di lavoro in subappalto dove ci ha messo lo zampino anche il coronavirus, quello del cantiere delle piscine di Selvazzano Dentro in costruzione a Tencarola, sfociato in un presidio della fila CGL di Padova che da mesi segue questi lavoratori. Ancora una volta ci troviamo di fronte alla filiera degli appalti dove a pagare sono i soggetti più deboli, ossia i lavoratori. È inaccettabile che quando un appalto è pubblico ci si trovi in queste situazioni, ossia che oltre 10 famiglie non ricevono lo stipendio da 5 mesi. Noi chiediamo ai soggetti coinvolti, ditta, consorzio e comune, che si facciano carico sia delle responsabilità giuridiche ma soprattutto sociali e morali. L'appello va agli interlocutori istituzionali e in particolare al comune di Selvazzano Dentro perché questa vicenda si sblocchi il più presto e perché l'impianto natatorio intitolato a Carlo Pedersone e che il compianto Bud Spencer possa vedere al più presto la luce.